buonasera a tutti allora possiamo anche iniziare eh vi chiedo cortesemente di nuovo la conferma e l'audio soprattutto a chi è arrivato negli ultimi minuti questo per essere sicuro che la connessione sia stabilita correttamente ok quindi se mi sentite basta che mi inserite mi date una conferma e l'area domande cortesemente allora c'era eh Gian Maria che domandava perché ha l'audio disattivato tutti quanti avete l'audio disattivato perché come vedi siamo in tanti se l'audio di ognuno fosse attivato non capiremo più nulla insomma solo per questo ok mi sentite grazie di tutto allora iniziamo con la sessione questa questo webinar mensile era diciamo all'inizio era mensile poi non è diventato tanto perché purtroppo a causa di tanti altri impegni non sono riuscito a mantenere la cadenza mensile però l'obiettivo appunto fare questo webinar ogni mese lo scopo di questi webinar è spiegare e spiegare questo tipo di attività o almeno come la vedo io come io vedo questa attività come la maggior parte dei grandi dei grandi tre della storia hanno visto questa attività e quindi i consigli e chiaramente possiamo trarne da questa attività che è un'attività che proviene dal passato l'attività di training è un'attività antica per quanto anche se molti non lo sanno insomma è un'attività antica che ha profonde radici non tanto nella nostra cultura italiana ma più che altro ha radici nella cultura anglosassone insomma ok allora vediamo quindi come pianificare la nostra legia per la gestione del capitale questa è la prima parte del webinar che tratterà questo argomento ci sarà poi un secondo webinar per approfondire l'argomento ok ok Giovanni mi chiede forse ha problemi con l'audio ma mi sembra che tutti gli altri abbiano non abbiano problemi forse un problema solo di Giovanni allora mi faccio una veloce presentazione per per chi non mi conosce ancora ok occhi per chi è nuovo un nuovo frequentatore del mio blog allora io sono un imprenditore e mi occupo di trading in particolare di trading sul forex nel 99 mi interessai la prima volta all'attività di trading ma poi decisi che non era la strada giusta per costruire il futuro quindi non ho creduto immediatamente in questo business quindi fondai un'impresa di informatica che poi nel 2008 dovuto chiudere tutte le difficoltà di questa esperienza mi hanno riportato ad avvicinarmi al trading nel 2009 poi è diventata la mia attività principale che ho iniziato a svolgere al tempo pieno una scelta che avrei dovuto prendere molto prima ok studiando mi sono reso conto che l'approccio imprenditoriale è l'unico vero approccio profittevole nel tempo che consente di lavorare con uno stress limitato inoltre è sempre stato l'approccio vincente dei grandi trader della storia il mio lavoro nel trading si basa su giornate di studio analisi e pianificazione dove valuto contesti di mercato per concentrare l'operatività pratica per ottenere i guadagni principalmente sul lungo periodo non cerco guadagni tutti i giorni ma guadagni tutti gli anni attraverso il progetto del blog forex dna forex dna.com condivido materiale tecnico riflessioni e tanto altro gratuitamente per far conoscere maggiormente questo business fornendo consigli e indicazioni e indicazioni sane e costruttive tutto questo con lo scopo di supportare chi parte da zero per fare evitare gli errori più comuni e per fornire indicazioni chiare per studiare questo business ok gli errori più comuni che sono poi quelli che fanno perdere la maggior parte dei soldi io ricevo dal blog tantissimi messaggi tantissimi email di persone che hanno iniziato questa attività nel modo sbagliato e hanno bruciato tantissimi soldi ok non è l'attività essere sbagliata non è l'attività essere cattiva ma è l'approccio essere cattivo ok e come voi vi siete approcciati dal business per questo motivo avete avuto una cattiva esperienza chiaramente questo non vale per tutti ma vale purtroppo per la maggior parte delle persone poi attraverso il progetto forex training university formo gruppi di studenti ogni anno per portarli gradualmente a praticare questo tipo di training risolvendo problematiche psicologiche tecniche attraverso varie attività di coaching ho formato diverse persone in sei anni attraverso il progetto invece forex business academy condivido analisi pubblicazioni tecniche sui trend primari sui partner chiave chiave e organizzo anche una serie di attività più intensive e avanzate e orientate allo sviluppo di business ok allora cosa vedremo oggi dal punto di vista mentale gestionale vedremo due punti importanti per pianificare una strategia per la gestione del capitale ok vedremo come ridurre il rischio nel training sul forest e calcolare posizioni adeguate al capitale vedremo come eliminare lo stress derivante alle perdite l'errore più comune commettono molti neofiti e entrare al mercato con posizioni sproporzionate al capitale il forex è un mercato veloce e questa velocità può costruire un vantaggio ma anche uno svantaggio soprattutto per chi non aveva per chi non ha una dovuta esperienza vedremo pertanto di approfondire questo tema capirete come controllare il rischio invece di farvi controllare da esso sì esatto ho scritto nelle slide non dovete farvi controllare dal rischio perché se voi non controllate il rischio sarete controllati dal rischio ok perché questo emotivamente chiaramente avrà il predominio su di voi se invece avete il controllo del rischio voi avete il controllo anche di quello che che fate e il controllo anche del rischio e quindi anche dei profitti quando lavorate con posizioni troppo grandi siete in ansia non accettate le perdite e vi accontentate di piccoli profitti pur di far terminare questa sofferenza dovete sapere questo tipo di approccio non vi farà mai guadagnare il risultato sarà sempre lo stesso accumulerete perdite troppo grandi o azerete il conto poi tanto per peggiorare la cosa darete la colpa al broker o alla caccia di stop ok tutte queste cose io perché ne parlo perché io vedo le email che mi arrivano dal blog i commenti che arrivano dal blog e parlano di questo di questo comportamento che purtroppo soprattutto chi si approccia e chi si chi parte da zero si approccia a questo business in questo modo e questo è un approccio deleterio ok molti in questo modo hanno dilapità dilapidato interi capitali da blog in questi anni ho ricevuto email con storie da paura persone che per cercare di guadagnare sono arrivate al limite del suicidio se avete agito in questo modo fermatevi subito e iniziate a ragionare perché lavorare in questo modo non significa fare business nel trading significa significa fare una cosa ok che ha nulla a che vedere con il business partiamo dal presupposto che il business del trading non è un business per tutti e certamente non è sfruttabile dai neofiti in cerca di soldi facili questa è una cosa che ci tengo a ripetere ogni webinar attraverso questi webinar mi interessa spiegarvi come è realmente questo business in modo che possiate scegliere liberamente e consapevolmente di farne parte o meno vediamo quindi come è possibile controllare il rischio prima di tutto per guadagnare non è necessaria una grande posizione ma è necessaria una posizione adeguata ed un mercato in trend per guadagnare serve una variazione di mercato adeguata una variazione di mercato pari almeno a un terzo del nostro rischio in questo modo riusciremo a pagare le spese naturali di questo business e trarne un profitto quindi la chiave è sapere attendere i profitti ma nel frattempo ridurre o annullare il rischio in attesa delle variazioni di mercato migliori internet è piena di professionisti seri ma anche di tanti millantatori che inducono a lavorare con posizioni grandi e con piccole variazioni di mercato come fare in questi casi la cosa migliore dal mio punto di vista è evitare di fidarsi a priori ok io personalmente mi fido della mia competenza se la mia competenza vacilla in un campo non agisco e resto a guardare magari cerco di approfondire il tema per saperne di più per approfondire la mia conoscenza ok Larry Williams che è un grandissimo imprenditore di questo settore insegna che esistono due modi per guadagnare sul mercato assumere una piccola posizione di mercato per guadagnare da una variazione di mercato ampia oppure assumere una posizione ampia con un rischio più grande per guadagnare da una variazione di mercato più piccola Larry Williams inoltre aggiunge che questo approccio non consente alla lunga un lavoro profittevole a causa della sproporzione tra spese e profitti quindi lavorare a mercato con una posizione ampia significa assumere anche un rischio più elevato per guadagnare da una variazione di mercato breve e questo è un tipo di approccio che non può essere profittevole nel tempo ok sicuramente non può essere profittevole e sicuramente non può essere profittevole in mano a un neofita invece assumere una posizione piccola quindi con un piccolo rischio e sfruttare un mercato in trend con una variazione di mercato ampia ecco questo tipo di approccio consente dei profitti consente dei profitti sani perché è naturale avere delle spese e per pagare le spese è necessario avere un profitto più ampio delle spese ok arriviamo ad approfondire questo tema leggendo un breve tratto del libro di Larry Williams che si chiama i segreti del trading di breve termine è un libro eccezionale che io vi consiglio allora una cosa che dice Larry Williams che io vi voglio ripetere perché è veramente molto importante è questo Larry Williams dice il segreto è che minore il time frame su cui fate il trading minore sarà il vostro profitto e questo è il sacro santo ok e poi spiega una parte molto interessante la sostanza è questa dice l'unico modo per ottenere i profitti relativamente elevati per un trader di breve termine e assumere posizioni di grandi dimensioni e proprio qui sta il problema con una grande posizione si è esposti all'un rischio di una grande perdita nella mia posizione e poi fa un esempio insomma che adesso l'ho visto da ripetere quindi in buona sostanza noi se lavoriamo con una posizione ampia al mercato siamo anche esposti quindi ha un rischio ampio quindi non va bene questa cosa non sta in piedi perché se io guadagno dieci volte ma poi perdo una volta e perdo tutto il guadagno che ho fatto le dieci volte precedenti questa cosa non sta in piedi non posso costruire un business in questo modo ok mentre invece un business che mi fa mi fa anche perdere faccio un esempio dieci volte ma poi quando guadagno guadagno tanto e quelle dieci volte che ho perso ho perso molto poco perché io controllo il rischio perché il mio rischio comunque di base è basso e quando guadagno invece massimizzo i miei profitti è chiaro che questo approccio mi consentirà di guadagnare anche nella peggiore delle condizioni ok tutti gli strumenti che abbiamo che vengono pubblicizzati come per esempio le opzioni binarie che sono uno strumento pessimo per fare business non sono uno strumento che vi consiglio le opzioni binarie per esempio fanno lavorare con un rischio con un rischio e un profitto in profitto inferiore al vostro rischio ecco in questo modo mai è possibile guadagnare perché io ho bisogno di guadagnare un profitto maggiore del mio rischio per coprire anche le spese le spese sono un'attività fanno parte dell'attività e quindi non posso prescindere da questa realtà ok quindi andiamo avanti e vi spiego il resto tuttavia esistono ottimi professionisti che hanno costruito il loro business proprio con questo approccio basato su piccole variazioni di mercato ok però c'è un grosso problema questi professionisti hanno maturato una grande esperienza e quello che fanno non è ripetibile o facilmente trasferibile agli studenti a chi parte da zero agli altri come dire questi professionisti sono anche ottimi professionisti e di un certo spessore professionale ma quello che fanno è una cosa difficile non è una cosa che voi potete fare non è una cosa che può fare chi parte da zero e non è neanche una cosa facilmente apprendibile ok poi è chiaro ci sono i millantatori e parliamo di un'altra sfera di persone che vendono i soldi facili attraverso l'uso di grandi posizioni su piccole variazioni di mercato è chiaro che che questo che a questo punto non dovete stare dovete stare alla larga da questo tipo di trading basato su grandi posizioni e piccole variazioni di mercato in ogni caso dovete stare alla larga perché perché gli ottimi professionisti che fanno questa cosa fanno una cosa che voi non sarete in grado di ripetere punto chi vi cerca di vendere i soldi facili vi sta imbrogliando quindi non dovete neanche seguire quella strada ok adesso cerco di darvi una visione più chiara di quello che secondo me potete fare e qual è la strada per iniziare a studiare questo business la strada corretta perché la strada dei soldi facili ha portato tante persone a dilapidare interi capitali a rovinarsi completamente non è la strada che ha mai fatto arricchire nessuno questo per dire che il trading basato su grandi posizioni e piccole variazioni di mercato o è difficile da applicare o si tratta di una vera e propria truffa ok quindi non è adatto sicuramente a chi parte da zero e se si tratta di una truffa chiaramente dobbiamo starne alla larga per esempio io penso che le opzioni binarie siano un pessimo strumento molto vicino ad una truffa ok quindi io vi sconsiglio vivamente di dedicarvi alle opzioni binarie e se dedicherete un po' di tempo a studiare quello che vi metto a disposizione gratuitamente dal blog vi renderete conto da soli che fare trading sulle opzioni binarie o fare trading con lo scalping o roba di questo tipo soprattutto per quello che riguarda lo scalping soprattutto non è indicato per chi parte da zero ok le opzioni binarie non sono indicate per nessuno perché sono proprio non sono trading sono uno strumento al quale praticamente bisogna solo stare alla larga io ho preferito seguire il consiglio di Larry Williams e dei grandi trader della storia che lo hanno preceduto perché sicuramente ne sanno più di me e di voi se vedete nella storia non ci sono grandi professionisti imprenditori o trader che hanno prosperato con lo scalping o con le opzioni binarie o quanto altro quindi insomma cerco di darvi un'indicazione sulla base delle cose che io ho imparato e che ritroverete nei libri che vi consiglierò ok libri non miei ma di grandi imprenditori che hanno condiviso le loro conoscenze detto questo vediamo di analizzare il trading basato su piccole posizioni e grandi variazioni di mercato al contrario del precedente approccio questo approccio ha consentito di prosperare a tanti grandi trader imprenditori e la storia vediamo gli esempi di Richard Dennis e Larry Williams Richard Dennis lavorava sul lungo periodo lungo e medio periodo tenendo posizioni più a lungo possibile Richard Dennis è stato famoso perché è stato uno dei trader imprenditori più prosperi che abbiamo avuto nella storia lui iniziò negli anni 70 con un piccolissimo capitale e ha prosperato con guadagni che hanno superato i 200 milioni di dollari poi alla fine della carriera ha anche accumulato un certo numero di spese insomma un certo numero di perdite ma in totale è stato sicuramente uno dei trader che ha fatto grandi cose sfruttando il trading basato su piccole posizioni e grandi variazioni di mercato poi lui in particolare aveva anche un approccio piuttosto rischioso in determinati momenti questo ha determinato in alcuni casi grandi guadagni velocemente velocemente nell'arco di dieci anni comunque e poi in alcuni casi anche grandi perdite perché questo è l'altra faccia della medaglia chi parte da zero deve partire necessariamente con un rischio molto basso e dopo vi spiego anche bene come puoi fare per far prosperare la vostra attività ma dopo aver fatto dei passi allora poi c'è stato Larry Williams che è un imprenditore contemporaneo che anche lavora sfruttando tendenze ampie lui fa delle complesse analisi per trovare dei cicli che si ripetono per sfruttare ampie tendenze di mercato Larry Williams è stato famoso per aver guadagnato in un tempo relativamente ridotto più di un milione di dollari da un piccolo capitale di 10.000 euro e questa cosa poi l'ha ripetuta più volte insomma sicuramente i suoi insegnamenti sono da da seguire insomma ecco ci sono poi ancora tanti altri esempi come EH Harriman Harold Goodman Charles Do Ralph Nelson Elliot e tanti altri che nella storia hanno insegnato hanno praticato l'attività di trading e l'hanno insegnato e ci hanno lasciato tanti insegnamenti molto importanti per esempio Charles Do quello dal quale nasce il nome dell'indice Dow Jones usava dire che i movimenti intraday cioè quelli all'interno della giornata le brevi variazioni di mercato intraday erano spazzature dal punto di vista dell'analisi e invece erano di vitale importanza i movimenti sui time frame ampi e lui invitava a concentrarsi sui movimenti ampi perché è da lì che poi ci trovavano le variazioni di mercato ampie che consentivano di fare un profitto con un rischio basso quindi basare il proprio business sui movimenti spazzatura cioè i movimenti brevi chiaramente non è proprio il massimo per questo io vi invito a studiare approfondire questo tema per conoscere di più il comportamento sui time frame ampi infatti l'oggetto del prossimo webinar mensile che faremo a dicembre se non sbaglio il 22 dicembre il prossimo webinar si sarà concentrato sull'analisi strategica quindi come identificare i comportamenti più importanti sui time frame alti per cercare variazioni di mercato ampie che possono consentirci di fare un lavoro di un certo tipo con un rischio basso ok allora per capire la differenza tra i due approcci quindi l'approccio su grandi posizioni a mercato e brevi variazioni e piccole posizioni a mercato e grandi variazioni di mercato vediamo come si calcono le posizioni a mercato perché da qui voi riuscirete a capire subito come stanno le cose e anche riuscirete a capire se avete sbagliato in passato riuscirete a capire che non dovete più sbagliare in questo senso perché sarà tutto più chiaro quando operate con il forex avete a disposizione tre tagli per le vostre posizioni a mercato i lotti i mini lotti e i micro lotti quando usate un lotto un pip vale 10 dollari il pip è l'unità di misura delle variazioni di mercato nell'arco della giornata il mercato può anche registrare 200 pip 100-200 pip anche di più in determinate giornate ok con due lotti ogni pip vale 20 dollari con tre lotti vale 30 dollari e così via mentre i mini lotti 0,1 valgono un dollaro per ogni pip 2 dollari 3 dollari e così via i micro lotti 0,01 e così via valgono 0,1 dollaro per pip e così via ok quindi voi potete configurare la vostra posizione a mercato in base al vostro capitale non avete bisogno di assumere un grande rischio per guadagnare avete bisogno di assumere la posizione corretta e farla correre sul mercato quando il mercato chiaramente è disposto a dare delle variazioni di mercato sufficienti ok per guadagnare questo chiaramente non è che avviene sempre infatti noi non possiamo pretendere di guadagnare tutti i giorni dal mercato come non è possibile anche con un'attività imprenditoriale tradizionale guadagnare tutti i giorni con la mia impresa che avevo prima e avevo delle commesse che in determinati mesi facevano guadagnare meno in altri mesi facevano guadagnare di più ok quindi lo stesso è per il trading non possiamo pretendere di guadagnare tutti i giorni ok comunque quindi con un lotto con un conto da 10.000 dollari che posizione userò con un lotto una variazione di mercato di un pip vale 10 dollari abbiamo detto quindi se entro al mercato e subisco una variazione di mercato di 200 pip accumulo una perdita di 2000 dollari pari al 20% del capitale ed è un disco troppo elevato assolutamente troppo elevato invece con un mini lotto da 0.10 una variazione di mercato di un pip vale 1 dollaro quindi se subisco 200 pip e accumulo una perdita avrò usato 200 euro quindi il 2% del capitale questo è l'otto corretto per questo capitale ok perché 0.10 è l'otto adeguato per lavorare con 10.000 dollari e la posizione è giusta perché ogni metodo di trading che si rispetti produce spese e profitti non esiste metodo di trading che guadagna sempre chi vi dice il contrario vi sta prendendo in giro quindi si deve sempre tenere conto che per arrivare ad un profitto è necessario gestire delle spese e quindi devo anche avere il capitale per fare questo lavoro per gestire queste spese se non ho il capitale a disposizione perché ogni volta che prendo una spesa questo capitale si dimezza o si taglia una fetta importante non va bene ok perché per guadagnare non ho bisogno di una posizione grande ho bisogno di una posizione giusta al capitale poi devo anche sapere come lavora il mio metodo di trading e come io ho imparato ad usarlo e quindi quante volte nel corso dell'anno accumulo spese prima di arrivare ad un profitto perché se io non so questa informazione ok io non posso strutturare un lavoro serio stiamo parlando di business non di un metodo per fare soldi ok il business chiaramente è orientato al guadagno ma per guadagnare c'è bisogno di un processo questo processo lo devo imparare una volta che l'ho imparato imparo ad applicarlo e una volta che ho imparato ad applicarlo so quanto la strategia e quanto io imprenditore sono in grado di fare e quindi quante volte accumulo spese prima di arrivare ad un profitto una volta che ho saputo questa cosa posso poi personalizzare il money management in base alle mie capacità ok che succede se uso una posizione troppo grande per esempio con un capitale di 10.000 dollari se uso 5 lotti una variazione di mercato di un pip vale 50 dollari quindi se entro al mercato e subisco una variazione di mercato di 200 pip accumulo una perdita di 10.000 dollari pari a tutto il capitale questo significa che il broker mi chiuserà le posizioni forzatamente si chiama allarme di margine ok prima di arrivare a zero questo è il modo migliore per bruciare i soldi molto velocemente ok quindi è di vitale importanza usare un lotto adeguato al capitale altrimenti tutto il vantaggio che il mercato può darmi mi si mi si volterà contro ma quando con una posizione questa è la domanda che spesso ricevo a questo punto ma con una posizione piccola quanto ci metto a guadagnare a questo punto arriva sempre qualcuno che mi dice sì ma con 010 è un conto di 10.000 dollari uso una Ferrari come una 500 questa mi arriva sempre questa cosa vediamo se mi arriva anche stasera questa è una sciocchezza che dicono alcuni broker per invogliarvi a fare soldi velocemente e senza competenza il risultato spesso è tragico solitamente consiglio per il momento di guidare la tua Ferrari come una 500 dopo aver imparato seriamente gradualmente potrai anche diventare Schumacher ve lo auguro iniziare a correre ma per il momento è necessario andare in piano perché non potete pensare di arrivare e partire in quarta ok determinate cose sono possibili ma non sono non sono cose possibili per chi parte da zero ok non escludo che molti di voi possano avere delle ottime capacità ma le capacità vanno poi sviluppate nel tempo mano a mano che le vedete crescere allora voi avete la possibilità di fare determinate cose che vi fanno guadagnare più velocemente fanno crescere il capitale più velocemente ma questa non è una cosa possibile per chi parte da zero ok la velocità di questo business può essere dalla vostra parte o dalla parte opposta la fretta e la superficialità vi metterà sempre contro il mercato e contro anche il vantaggio che può darvi il mercato perché il mercato è veloce ma se questa velocità vi sarà contro potrà essere pericoloso ok invece voi dovete mettervi dall'altra parte e per stare dall'altra parte dovete avere competenza e cautela questa la competenza e la cautela vi consentiranno di correre in alcuni momenti dell'anno e fare ottimi risultati ma c'è bisogno di competenza e cautela vediamo adesso questo secondo punto importante le perdite sono fisiologiche non esiste profitto senza prima aver sostenuto qualche spesa ok questo vale per tutte le imprese e quindi anche per le imprese di trading quindi si deve lavorare con una posizione adeguata per poter pagare le spese prima di arrivare ad un profitto nel progetto Forex University io seguo diverse persone e una delle cose che io gli spiego è che avranno a che fare per la maggior parte del tempo con le spese non con i profitti quindi è molto importante imparare quella parte imparare a gestire queste spese e il lavoro maggiore che noi facciamo è un lavoro per tenere le spese basse e quando poi arriva ad un profitto arriva a un profitto fare in modo di massimizzare quei profitti per fare in modo che siano quanto più ampi e possibile però i profitti non arrivano tutti i giorni ok quindi pensare di arrivare e cominciare subito a fare profitto non è costruttivo non è la realtà ok e voi dovete sapere la realtà di questo business per poter partire con il piede giusto che stavo dicendo qui l'ho già letto è necessario anche conoscere bene la propria metodologia di trading e iniziare ad applicarla con un approccio di money management poco rischioso questo consente di conoscere bene le proprie capacità tutto questo per capire le proprie capacità nell'applicare la metodologia perché non è la metodologia di trading a produrre i profitti ma è l'imprenditore quindi se non conoscete ancora le vostre capacità nell'applicare la metodologia dovete partire con un rischio molto basso e un conto piccolo non operate mai basandovi sullo storico di qualcun altro volete apprendere una strategia un metodo di trading benissimo fatelo prima dovete imparare a farlo magari anche attraverso l'uso di un software di simulato dove potete imparare ad applicare tutto questo e poi dopo imparate a fare tutto questo con un conto reale di piccole dimensioni ok con un money management adeguato per studiare una volta che avete costruito uno statement sapete quali sono le vostre capacità nell'applicare la strategia e questa cosa se non fate questi passi mai potete saperla non è che se vedete la strategia di qualcun altro applicata bene questo indica in qualche modo che voi sarete in grado di fare lo stesso non è così ok quindi quando qualcuno vi fa vedere gli statement e vi dice ti insegno a fare la stessa cosa vi deve anche dire che quella stessa cosa in mano vostra non necessariamente produrrà gli stessi risultati anzi molto probabile che non produrrà gli stessi risultati lavorerete sulle stesse opportunità ma quello che poi voi farete non necessariamente sarà uguale a chi praticamente vi sta insegnando la strategia ok perché perché siamo persone diverse e ognuno di noi fa scelte diverse nei momenti diversi seguiamo opportunità diverse poi alla fine in momenti diversi insomma quindi insomma le variabili sono comunque tante anche se stiamo lavorando sulla stessa cosa per dimostrarvi questa cosa è vera cercate su internet lo studio dei turtle trader il turtle trader era un progetto di Richard Dennis l'imprenditore che vi ho citato prima e Richard Dennis praticamente mise insieme questo gruppo per dimostrare che il suo metodo di trading era facilmente applicabile anche a persone che non capivano nulla di trading ok per un gruppo di questi soggetti perché un gruppo di questi soggetti sono diventati poi imprenditori di una certa importanza nel settore ok trader di una certa importanza nel settore altri invece assolutamente no tra quelli che avevano applicato bene i suoi insegnamenti praticamente si vedeva che i risultati sono anche pubblicati su internet quindi voi li potete consultare ok se andate sul sito di Michael Cowell che lui ha ripreso un po' tutto questo studio trovate queste riflessioni e questi dati vedete che tutti i suoi studenti che avevano seguito le sue indicazioni poi alla fine avevano prodotto risultati sostanzialmente diversi ok nessuno aveva prodotto gli stessi risultati quindi quindi da qui ne deduciamo che non è la strategia di trading a produrre risultati ma è l'imprenditore poi è chiaro che se la strategia vi dà indicazioni corrette voi farete un buon lavoro o comunque è un lavoro migliore ok quindi non dovete cercare la strategia corretta o la strategia che guadagna per tutti perché non esiste esiste esistono ottime indicazioni per studiare per costruire una metodologia di trading che corrisponda alle proprie esigenze ok e chiaramente da lì poi strutturare imparare ad apprendere imparare a praticare la strategia e capire le proprie capacità in base a queste capacità voi potete poi anche personalizzare il vostro money management per seguire delle opportunità che possono darvi anche un profitto maggiore rispetto al vostro capitale ma non è una cosa appunto come sto cercando di spiegarvi non è una cosa alla portata di chi parte da zero ok una volta che avete appreso il money management avete imparato ad applicare la metodologia di training avete gli strumenti per mettere una marcia in più al vostro business una marcia in più intendo lavorare senza stress in modo sistematico quando avete posizioni sproporzionate al capitale e che prevedono un rischio basso ok no scusate quando avete posizioni proporzionate al capitale e che prevedono un rischio basso non avrete più paura di conseguenze tragiche quando conoscete la vostra metodologia di trading sapete quante spese in media dovete gestire per arrivare ad un profitto quindi quando arrivano delle spese non cadete in depressione sapete che sono parte di un processo che avete imparato o che comunque state imparando ok quindi quando fate trading le spese devono arrivare è naturale che arrivino è importante che proprio abbiate una strategia per gestire le spese ok il primo punto per avere una strategia per gestire le spese è una strategia per la gestione del capitale quindi dimensionare il le proprie posizioni in base al capitale questo è essenziale altrimenti non andate da nessuna parte e soprattutto non lavorerete sereni per lavorare per fare business bisogna bisogna ragionare lavorare sereni non lavorare con posizioni assurde su piccoli capitali perché questa cosa è una cosa che fanno quelli che cercano di guadagnare qualcosa velocemente e poi vengono puntualmente puniti dal mercato per fare tutto questo c'è bisogno di studiare tanto tempo ok c'è bisogno di studiare e c'è bisogno anche di direzione però è chiaro che poi la ricompensa è importante ma tutte le cose come tutte le cose nulla viene facilmente ok è una cosa possibile ma è necessario seguire appunto un processo ricordate questa cosa il mercato premio i più capaci non i più bisognosi anzi punisce aspramente i bisognosi senza esperienza e con tanta fretta ok questa è una realtà del mercato è la verità del mercato ok quindi è una cosa che sembra cattiva ok ma è la verità di quello che poi avviene sul mercato e bisogna tenerne conto per proteggersi e per proteggere le persone che cercano di usare il mercato nel modo sbagliato ok l'obiettivo di questi webinar è fornirvi una visione chiara e reale di questo business in modo che possiate scegliere se farne parte o meno chiaramente diventare imprenditori in questo settore significa impegnarsi e studiare per un tempo prolungato e abbandonare la fretta questo è un business che dà grandi vantaggi ma solo agli imprenditori competenti ok quindi io attraverso questi webinar cerco di darvi un'indicazione per seguire una strada migliore ok una strada che molto spesso non trovate su internet insomma la trovate nei libri migliori ma su internet cercando appunto informazioni non avete tanto accesso a queste informazioni allora io cerco di darvi indicazioni per darvi una via migliore e facendo questo vi consiglio anche dei libri che possono esservi utili per strutturare la vostra attività nel modo corretto c'è un libro bellissimo che vi ho citato prima i segreti del trading di breve termine di Larry Williams e ve lo consiglio assolutamente perché è proprio legato una parte del libro è legata all'argomento che abbiamo trattato stasera ok poi un altro libro molto importante è il libro trading come business di Gioros e anche dei trading di Gioros ok sono ottimi libri anche il trading con il Rossuc di Gioros trovate tutto nel mio blog nel mio blog se vi interessa ecco il mio blog ForexDNA trovate ancora tanti consigli gratuiti ok e anche i link i riferimenti per comprare i libri ok sia sul sito di Gioros per i libri di Gioros sia poi in giro sul trading library su Amazon eccetera spero che la sessione sia stata utile ok la prossima sessione la faremo il martedì 22 dicembre alle 19 e tratteremo i primi passi di analisi strategica per conoscere i contesti migliori per strutturare il proprio business faremo poi il prossimo anno un ulteriore approfondimento per quello che riguarda la strategia per la gestione del capitale ok perché questa è la prima parte faremo un'ulteriore sessione che andremo ad approfondire poi il prossimo anno per darvi ulteriori indicazioni per fare bene l'attività il 22 dicembre noi parleremo di analisi strategica quindi vi parleremo un po' di come funziona il mercato e poi vi spiegherò un po' l'interpretazione dei grafici per capire le prime informazioni fondamentali ok fondamentali di analisi tecnica vediamo qualche domanda che avete scritto allora Lorenzo chiede se c'è la registrazione del webinar sì la registrazione ci sarà me la metto in linea domani la avrete sicuramente il rischio di rendimento Lorenzo Lorenzo chiede quanto deve essere il rischio di rendimento il rischio di rendimento deve essere pari a 1 a 3 come dicevo prima i vostri profitti devono essere almeno il mercato vi deve consentire i profitti almeno 3 volte il rischio che voi mettete perché solo così voi riuscite a pagare poi le spese ed avete un profitto ci sono volte in cui le opportunità di lungo periodo vi danno un rischio di rendimento pari a 1 a 20 a 30 a 40 volte il rischio che voi avete messo allora è così che noi riusciamo a svolgere un'attività sana che porta che ha dei rischi chiaramente ma sono controllati e vi porta anche dei profitti più ampi per pagare anche le spese Pasquale dici cosa intendi per scouting io non ho parlato di scouting ho parlato di coaching forse ho parlato dei progetti di coaching puoi andare a vedere i progetti appunto di cui parlavo prima ci sono tutte le informazioni sui siti Alfonso dal punto di vista del broker è più utile un cliente che apre dieci posizioni da un micro lotto o un cliente che apre una posizione dall'otto è praticamente la stessa cosa Alfonso il broker guadagna le commissioni guadagna sullo spread in base alle vostre posizioni ok quindi se voi aprite posizioni più grandi il broker guadagna di più questo è il punto se aprite più posizioni più grandi lui guadagna di più insomma questo è quanto è chiaro che il broker truffaldino magari in un paese sperduto vi indurrà sempre ad usare posizioni ampie magari con l'obiettivo di bruciarvi il capitale perché poi alla fine il capitale si viene in tasca ma è chiaro che questo stiamo parlando non di broker seri ma di broker ladri i broker seri guadagnano sullo spread e comunque non vi inducono a usare posizioni troppo elevate ok perché soprattutto se non avete esperienza grazie max che mi dice che la sessione è stata utile raniero dice cos'è il time frame il time frame è praticamente vedrai vedrai il mese prossimo noi faremo il webinar ti farò vedere i grafici e vedrai che ci sono grafici giornalieri grafici settimanali mensili trimestrali cioè significa che ogni barra di prezzo corrisponde a marco di tempo giornaliero settimanale mensile trimestrale addirittura annuale eccetera ok allora christian mi domanda che broker consiglieresti io lavoro con swissquat ok però a chi parte da zero non serve il broker a chi parte da zero non serve il broker serve un libro per studiare ok quindi se partite da zero dotatevi di un libro non dovete aprire conti dai broker dovete prendere un libro e studiare poi attraverso i blog forex dna se avete bisogno potete anche fare domande su quello che state studiando ok ma non avete bisogno di aprire un conto da un broker per iniziare una cosa che non avete imparato ancora ok Rocco dice dove posso impostare il rapporto profitto perdita sulla piattaforma metatrader è una cosa che tu devi fare a mano non devi non la puoi impostare sulla piattaforma il rapporto rischio rendimento si si calcola in base all'opportunità sul quale lavori e quando e diciamo l'orizzonte temporale che può avere insomma l'obiettivo che può avere e quindi una cosa che tu stabilisci facendo analisi ok Martino dice sono nuovissimo nel trading cosa si intende per contenere le spese e guarda abbiamo parlato proprio tutta la sera contenere le spese significa fare in modo che le tue spese siano piccole ok più piccole possibile perché per guadagnare non c'è bisogno di assumere grandi posizioni e quindi anche grandi rischi non ce n'è bisogno inoltre inoltre una volta assunte le posizioni con un rischio basso è possibile ulteriormente ridurre le spese attraverso delle tecniche che poi vedremo magari insomma più avanti ok è una cosa che io vedo con gli studenti del progetto Forex University che seguiamo nel corso dell'anno ok e con i webinar mensili non penso che ne arriveremo a parlare perché poi è un'indicazione troppo tecnica questi webinar servono a darvi una consapevolezza di base per non fare errori soprattutto ok allora Alfonso dice quando perdi il tuo capitale chi lo intasca intendo dire senza frode no nessuno lo intasca nel mercato va al mercato ok il mercato insomma formato da capitale e chiaramente farà parte del capitale del mercato allora Vanessa dice Stefano quando quando devo aprire il conto metatrice con il conto demo per studiare quando sei pronta che hai imparato praticamente della metodologia di trading e hai fatto pratica con il software di simulato allora a quel punto puoi aprire un conto studio anche con denaro reale non necessariamente demo anzi io il conto demo solitamente sconsiglio di usarlo perché non serve a molto serve studiare sul software di simulato per imparare ad applicare e poi un conto con denaro reale anche di piccole dimensioni 1000-1500 euro con i micro lotti per imparare a studiare e appunto avere il primo statement che equivale diciamo alla prova la prima prova per capire per misurare le vostre capacità ok ognuno di noi deve produrre un proprio statement per misurare le proprie capacità nell'applicare la metodologia e da qui si capiscono poi tante cose e chiaramente abbiamo anche poi dei margini per andare a migliorare ogni singola ogni singolo aspetto Christian dice cosa ne pensi della price action è un'ottima teoria insomma un'ottima metodologia ma che uso anche io con un'altra strategia che ho messo a punto e si si basa principalmente sull'intraday però secondo me come dicevo prima l'intraday è più difficile ok e non è adatto a chi parte dal zero ok il trading intraday rispetto al lungo periodo è molto più difficile richiede molta più esperienza quindi se la price action si usa per fare i traday forse non è il caso per chi parte dal zero però è una cosa comunque utile si possono fare ottime cose appena si è si è maturata un po' l'esperienza Mario dice ciao sono Mario se il broker guadagna sullo spread come fa ad intascarsi i soldi se uno può perdere se azzeria il conto come dicevo prima Mario stavamo parlando di broker truffaldini cioè di ladri ok il ladro sa come deve fare per rubare il tuo capitale se tu ti rivolgi a un broker serio appunto questa cosa non esiste soprattutto in un in un in un paese regolamentato Alfonso dice ma da chi è costituito il mercato è costituito da tutti gli investitori da tutti i trader da tutti dalle banche da tutti quelli che appunto scambiano valute se parliamo del mercato del forex Cosimo dice sicuramente lo spiegherete alle lezioni ma per curiosità da cosa si capisce da cosa si capisce dove uscire dal mercato o posizione ecco non ho capito bene cosa vuoi dire se tu vuoi dire cosa si capisce quando si deve uscire dal mercato o quanta grande deve essere la posizione immagino se questa la tua domanda e si capisce quando tu hai imparato a interpretare il mercato e a capire i vari comportamenti alcuni comportamenti hanno danno la possibilità offrono una continuazione del mercato altri comportamenti invece no insomma c'è da studiare per capire come si comporta il mercato Rocco un'altra domanda su un metatrader nel momento in cui effetto un ordine il volume cosa rappresenta guarda nel forex il volume non lo usiamo proprio quindi non e comunque il volume indica il volume di liquidità insomma ma noi non lo usiamo proprio nel forex Marco ciao Stefano applicando la strategia di Fibonacci su un qualsiasi cross come imposti lo stop innanzitutto quale strategia di Fibonacci ok e poi sui time frame H4 ma quale su quali time frame inizi ma quale strategia di Fibonacci Fibonacci non ha elaborato nessuna strategia uno se ti riferisci ai pattern di Fibonacci se ti riferisci alle estensioni di Fibonacci cosa perché la strategia di Fibonacci non esiste esistono delle teorie di Fibonacci che sono più di una insomma possono essere applicate in vari modi è una cosa un po' sommaria la cosa che hai detto capito non esiste una strategia di Fibonacci esiste una teoria di Fibonacci sulla teoria di Fibonacci si costruisce la strategia ok Benedetta dice cosa ne pensi le bande di Bollinger più l'RSI penso che non sono una strategia sono due indicatori che possono essere utili in un ambito in una strategia ma non sono di per sé una strategia ok sono degli indicatori che io personalmente non uso neanche penso che la cosa importante sia interpretare il mercato e capire come il mercato si sta comportando senza questi indicatori che poi alla fine ci indicano solo il comportamento delle barre il comportamento del mercato ma se noi sappiamo leggere questo comportamento a cosa ci servono questi indicatori Sandro dice ciao Stefano sempre molto chiaro giovedì a giovedì grazie Sandro Christian dice quindi secondo la tua esperienza i broker più affidabili devono avere sede in Svizzera in Inghilterra Italia Germania o comunque non in paesi sperduti tu dici paradisi fiscali ma non in paesi sperduti come può essere Gibilterra Cipro oppure insomma paesi dove non c'è una regolamentazione forte dove se qualcuno imbroglia nessuno li va a perseguire e state anche attenti perché alcuni dicono di avere sede a Ginevra e poi magari non è così quindi dovete affidarvi a broker seri i broker seri che io conosco sono Swissquot perché ci lavoro poi c'è IG un altro broker molto importante ok e poi c'è Interactive Brokers che è un broker che lavora con ProRealTime io non ho il conto ma so che è un broker serio e insomma ce ne sono anche altri insomma ok poi è importante anche che il broker sia non solo serio ma anche importante perché perché è capitato con un evento recente più o meno recente con il Franco Svizzero e anche un broker serio come Alpari praticamente ha dovuto chiudere perché non aveva la forza di superare questo ostacolo quindi il broker non solo deve essere serio ma deve essere anche importante e io ho trovato in Swissquot un partner importante in questo anche IG è un broker importante anche se ci lavoro da poco quindi non non so molto ancora ma sicuramente è un broker molto importante molto forte molto serio insomma allora le ultime domande come faccio a stabilire la quantità monetaria da investire in ogni operazione guarda Rocco l'ho spiegato proprio stasera abbiamo dedicato tutta la serata a questo c'è una parte dove vi spiego come come configurare le vostre operazioni e soprattutto che per configurare vi ho spiegato dovete anche sapere come voi applicate una certa metodologia che chiaramente dovete imparare quindi riascolta poi il video insomma ci sono tutte queste informazioni Marco quindi come ho capito non usi indicatori nella tua strategia di trading operi solo su rimbalzi rotture no io opero su determinate opportunità di lungo periodo che insomma nelle analisi che pubblico nel blog potete avere qualche indicazione su quello che faccio ma non indicazioni che dovete seguire dovete sfruttare queste indicazioni per capire un po' di più come strutturare il business ok Alfonso dice non riesco a capire chi si avvantaggia la perdita del capitale di un investitore ma cosa ti interessa se tu vuoi sviluppare il business segui queste indicazioni e inizia a studiare nel modo corretto che poi esistono determinati soggetti organizzati per rubare ma questo capita in tutti i settori non è una cosa solo di questo settore e studiare come loro rubano neanche a noi ci interessa perché insomma a meno che non desideriamo fare appunto i lati di professione ma non è sicuramente questo il tuo intento insomma ecco no il tuo interlocutore Alfonso deve essere il broker che è un partner se scegli un partner serio ti aiuterà a fare bene la tua attività ma devi prima svolgere tu l'attività correttamente questo è importante se no non arrivi comunque a nulla Marco mi domanda se teletrade lo conosco no non lo conosco Alberto dice complimenti come sempre appena puoi aspetti la mia risposta su skype sicuramente ti ringrazio Alberto va bene allora Cristiano mi fa una domanda cosa ne pensi dei pattern tipo pin bar inside bar e ingolfing innanzitutto non sono pattern sono bar sono solo l'ingolfing è un pattern di collasso ma è un pattern che non si usa come opportunità ok ti consiglio per studiare meglio queste cose come dicevo prima il libro di Geross dei trading il trading come business il trading come il Rossuc già lì studi dei pattern dei veri pattern ok dei pattern di trend molto forti molto importanti che però da soli non fanno tutto il lavoro ok non è il pattern la strategia non è il pattern il pattern è un pattern che indica un comportamento del mercato un comportamento che può essere sfruttato per lavorare ok e c'è chiaramente da approfondire per poter arrivare dal pattern all'operazione ci vuole in mezzo una metodologia di trading che ti dice come usare quel pattern per sfruttare una variazione di mercato ok allora Cristiano mi dice cosa ne pensi di FX CM beh insomma so che è un broker molto grande però in tutta onestà non ci ho mai lavorato insomma quindi non so non so granché quelli che conosco ve li ho detti questi sono bene allora io vi ringrazio del tempo che avete dedicato non ho più nessuna slide vi ho spiegato quello che avevo programmato spero che le informazioni vi siano state utili domani pubblico anche la registrazione del video così potete anche riascoltare queste informazioni il 22 dicembre facciamo il prossimo webinar e tratteremo i primi passi dell'analisi strategica vedrete sarà molto interessante ho preparato già tanto materiale per spiegarvi bene l'analisi strategica diciamo almeno i primi pezzi dell'analisi strategica ok buona serata a tutti e buona cena a presto ciao a tutti ciao a tutti Grazie.